Gli addetti ai lavori speravano che la famiglia reale si riprendesse in tempo per Natale, ma poi è uscito in game di Omid Scobie. È passato un altro Natale e il principe Ferry e Megan non erano a Sandringham con la famiglia reale. Questo arriva dopo che i fan e gli esperti avevano pensato che questo potesse essere l'anno in cui il duca e la duchessa di Sussex avrebbero fatto ammenda con The Ferry. Fonti vicine ai reali avevano affermato che la coppia era disposta a trascorrere il Natale in Gran Bretagna. Riferisce The Mirror. Tuttavia, l'uscita di Endgame, il secondo libro di Omid Scobie, sembra aver causato più danni che benefici. Anche se i Sussex non hanno scritto né approvato il libro, Scobie è visto come un alleato della coppia. L'esperto reale Garrett Russell ha detto a GB News che il loro marchio è stato danneggiato dal libro, e anche essere etichettati come i più grandi perdenti da The Hollywood Reporter non ha aiutato. Ha spiegato. Endgame è arrivato in un brutto momento per loro. Penso che sarebbe stato nel loro interesse allontanarsi dalla narrazione. Perché l'unico momento in cui li vedi davvero in primo piano nei titoli, è quando hanno direttamente o ha attaccato indirettamente la famiglia reale. È chiaro che non funziona in termini di generazione di simpatia da parte del pubblico. Ma c'era molta simpatia da parte del pubblico per loro, e un enorme interesse da parte del pubblico. E non è proprio così. Domenica 23 dicembre, il re e la regina Camilla, sono stati avvistati nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nella tenuta reale di Norfolk. Il monarca, 75 anni, ha salutato i suoi sostenitori mentre si dirigeva verso la chiesa, accompagnato dalla moglie, dalla sorella della regina Anna, da Sir Timothy Lawrence, e dal fidato Scudiero, il tenente colonnello Jonathan Thompson. Grazie a tutti.